apertura di repubblica cancellare salvini ogni tanto un giornale fa un titolo forte per farsi pubblicità ma noi siamo il paese dell'indignazione senso unico io ho scritto per libero spesso non ho condiviso quegli articoli e quei titoli e l'ho detto pubblicamente perché mi ritengo una persona libera ed oggi sebbene io non faccia politica sono libera di dire che il titolo di repubblica mi fa schifo ci sono tanti commentatori a senso unico che però facciano però un piccolo consiglio vorrei comunque darlo di solito a cancellare non sono i giornali le interviste o i titoli sono gli elettori gli unici legittimati a cancellare un leader o un partito ho letto un sondaggio l'ho sognato che salvini al 30 siamo così sicuri che lo state cancellando vabbè polemiche a parti buona giornata